Allora, prima di tutto vorrei ringraziare per l'invito, ringrazio anche tutta l'organizzazione e gli ospiti per i super interventi in cui mi trovo assolutamente d'accordo. Sono emozionata e molto contenta di essere qui per Sakaj 2014, per portare sostegno a tutta questa rete che si sta costituendo qui a Venezia come un momento fondante in questa lotta verso il 2026, verso le Olimpiadi e sono contenta che ci sia anche questa parte di Parigi che viene a portare il suo sostegno e la solidarietà perché penso che una lotta contro i giochi olimpici deve per forza pensarsi anche internazionale in un rapporto di forza che dobbiamo costruire contro una macchina che è gigantesca perché l'abbiamo visto anche nei racconti che ci hanno fatto dei vari territori, delle varie realtà. I giochi olimpici sono una macchina enorme con un peso economico gigantesco contro unicilottiamo nei territori. Io parto in particolar modo il pensiero di Sakaj 2014 che in francese vuol dire saccheggio, meglio tradotto come la devastazione. In particolar modo dei giochi 2024 di Parigi che si terranno esattamente tra un anno perché adesso siamo al 9 settembre e i giochi si concluderanno l'8 settembre dell'anno prossimo. Una cosa che mi sembra quasi assurda da dire perché ci stiamo lavorando ormai da anni, per noi i giochi sono iniziati ormai 3-4 anni fa quando si è formato il collettivo, quando sono arrivate le prime gru, quando sono arrivate le prime espulsioni e ci siamo dovuti dal basso a trovare ad organizzare per capire come rispondere a una situazione di crisi in una zona che è la Saint-Saint-Denis. Cioè noi parliamo di Olimpiadi di Parigi ma in realtà le Olimpiadi, la maggior parte delle infrastrutture e anche delle gare e competizioni sarà nella Saint-Saint-Denis che è uno spazio a nord della città di Parigi. Tra l'altro appunto si tratta di una delle zone più povere, uno dei distretti più poveri della Francia metropolitana, il terzo più povero se consideriamo anche la France d'Autremer, quindi tutti i territori della Martinique e della Réunion. Ecco in questa situazione quale un territorio estremamente precario come la Saint-Saint-Denis, i giochi olimpici vanno ad accelerare tutta una serie di processi che sono già in corso e di cui un po' abbiamo già parlato. Il problema della gentrificazione, delle espulsioni, del consumo di suolo ma anche più in senso lato della giustizia sociale e ambientale che in un territorio come la Saint-Saint-Denis non puoi mai pensare come disgiunte. Sakage vuol dire abitanti dei quartieri devastati dove da più ormai di tre anni viviamo in una condizione permanente di cantiere e di opere e sappiamo appunto che queste opere porteranno a nuovi ecoquartieri, a nuove strutture che non servono alla popolazione locale ma anzi stanno già portando all'aumento dei costi. Siamo passati in alcune zone da 4.000 euro al metro quadrato a 7.000. Questo significa che le popolazioni che oggi abitano la Saint-Saint-Denis probabilmente non ci potranno più abitare tra qualche anno. Ma pensiamo anche appunto a tutti i giardini, a tutte le realtà devastate, gli unici spazi verdi ancora presenti nella Saint-Saint-Denis come i giardini di Oberviglie di cui vi vorrei parlare, i quali appunto rischiavano di essere completamente devastati ma contro quel progetto del solarium ci siamo opposti fino alla fine e abbiamo ottenuto vittoria per cui non saranno poi sacrificati. Per me i giochi olimpici di Parigi come i giochi olimpici in generale sono il simbolo di un conflitto, una conflittualità che si esprime anche in questa temporalità di cui vi sto parlando, per cui mi sembra assurdo di pensare che tra un anno i giochi finiranno perché so benissimo che le conseguenze le pagheremo in questi territori per gli anni a venire perché i cambiamenti che stanno avvenendo sono talmente radicali che non ci si potrà più tornare indietro. È un processo quello dei giochi che tocca il territorio e lo cambia in una maniera assolutamente devastante, è impossibile appunto ritornare su questi passi. Questa conflittualità si esprime quindi prima di tutto nella temporalità di giochi che dureranno un mese e mezzo, che sono stati voluti da Macron, che abbiamo definito essere i giochi di Macron, che solamente per la cerimonia di apertura costeranno 160 milioni, immaginate sulla Senna con 600 mila spettatori, un miliardo si calcola in linea pronti a guardare appunto questo inizio dei giochi olimpici di Parigi, giochi olimpici che verranno a cancellare quella che è una conflittualità che nei territori, in Francia è presente ormai da anni, a partire dal 2016, penso tutto il percorso della Lua Travail e da Noi Début, dei Gilets Jaunes per arrivare a quest'ultimo anno di manifestazioni fortissime, un giorno dopo l'altro del 2023 contro la riforma delle pensioni, che tra l'altro appunto è passata l'1 settembre, l'1 settembre nonostante tutte le nostre manifestazioni la legge della riforma delle pensioni è passata e questa cosa per noi è ovviamente inaccettabile, è quella tregua che devono segnare i giochi olimpici di questo momento in cui, ria pacificatore, gli occhi del mondo guarderanno la Francia e guarderanno in particolar modo Parigi, chiaramente i lavoratori e le lavoratrici che hanno combattuto, che hanno lottato contro questa riforma non la possono accettare, come chiaramente non la possono neanche accettare i movimenti che sono stati criminalizzati in questi mesi, penso in particolar modo ai nostri compagni e compagni dei Soulevement de la Terre e non potranno sicuramente accettare una tregua di questo tipo, neanche la famiglia di Nael, ragazzo di 17 anni ucciso dalla polizia a Nanterre e nemmeno tutte le persone che hanno sofferto le violenze della polizia in Francia, ma che purtroppo non hanno mai avuto un video per poter testimoniare queste violenze come è stato il caso di Nael e penso in particolar modo alla famiglia Traoré, di cui appunto c'è stata una manifestazione tra l'altro giusto due giorni fa e questo è per dire che la questione sociale e il conflitto che si dà in questo momento in Francia non è separato dai giochi olimpici nel momento in cui questi rappresentano la tregua che Macron vorrebbe anche in vista di quel 2027 che sono le nuove elezioni e noi è questo che dobbiamo imporre, dobbiamo cercare di proseguire questa vaga appunto di mobilitazioni che c'è stata nel 2023 e pensare al 2024 anche come il modo di rendere visibile quel conflitto che non può essere silenziato in nessun modo, neanche se come appunto succederà la città sarà completamente militarizzata e quindi anche la nostra possibilità di dissenso sarà completamente messa a tacere ed è per questo che stiamo cercando di costruire una convergenza tra le varie realtà sindacali, tra i movimenti, tra le realtà per la lotta al diritto all'abitare, tra le realtà ecologiste perché i giochi olimpici, l'avrete capito, toccano veramente ogni ambito della società e pongono un modo nuovo di vedere e di pensare la società. Avevo fatto una promessa che era anche di parlare un po' e di raccontarvi cosa veramente succede nei territori e ho pensato a due immagini in particolar modo perché le opere sono talmente tante, abbiamo cercato anche di riassumerle in una carta che sarà presto disponibile che abbiamo fatto appunto con i cittadini delle zone più impattate, l'abbiamo fatta anche con altri gruppi militanti per avere una sorta di contro cartografia anche di qual è l'impatto dei giochi nei territori e ci sono due immagini che secondo me sono particolarmente importanti. La prima di questi giardini di Oberviglie che vi ho nominato sono dei giardini operai, cosa significa? Che sono nati più o meno all'inizio del Novecento in una zona come Oberviglie quindi estremamente industrializzata in cui vi erano industrie chimiche, dove c'erano delle fabbriche e c'era questo spazio verde per le famiglie degli operai, per l'autoproduzione, per la sussistenza. Immaginate che questi giardini sono riusciti a sopravvivere la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, i processi di industrializzazione e di deindustrializzazione sono sopravvissuti agli anni 90, agli anni 2000 e di fronte ai giochi olimpici 10.000 metri quadrati di questi giardini rischiavano di perdersi per la costruzione di un solarium attaccato alla piscina olimpionica. Stiamo parlando di giardini che anche se non sono più nelle mani di famiglie operai perché ovviamente c'è stato il completo svuotamento del territorio con la deindustrializzazione, sono in mano delle famiglie dei quartieri popolari che quei giardini li utilizzano per la loro sussistenza. E non solo questo, sono anche l'unico spazio verde in cui i bambini possono correre in una zona assolutamente periferica e fatta di palazzoni. Ecco noi abbiamo costruito una JAD, ovvero la ZAD, ma dei giardini, le jardin a defondre, quindi una zona in cui militanti e militanti sono rimasti su quel territorio per difenderla appunto dal cantiere e abbiamo infine vinto appunto questa lotta per cui il solarium non sarà costruito. Anche se sono ancora minacciati da un altro progetto e quindi non possiamo ancora cantare vittoria che è quello infrastrutturale di tutta una serie di trasporti della stazione del Gran Paris Express che è un altro diciamo grandissimo cantiere molto legato a quello dei giochi olimpici che in un certo senso va a ripensare completamente tutta la linea dei trasporti nel nord di Parigi e ci porta al secondo punto, alla seconda immagine che volevo raccontarvi ed è quella del quartiere Pleiel, un quartiere anche lui incastonato nella Saint-Saint-Denis in una zona appunto di grande povertà in cui ci sono vari progetti in corso, una torre che diventerà un hotel di lusso gigantesco, un enorme coquartiere e poi un raccordo autostradale proprio perché c'è questa volontà di ricostruire un hub di trasporti in tutto il nord di quella sorta di città 15 minuti come si dice, 15 minuti per arrivare all'aeroporto molto velocemente, Charles de Gaulle chiaramente non lo stai facendo per gli abitanti di un quartiere popolare, la facilitazione dell'arrivo all'aeroporto, ma così costruiranno questo raccordo autostradale per l'A86 che si trova esattamente a 10 metri di distanza da un complesso scolastico che ha 700 bambini al momento dai 3 ai 12 anni che saranno costretti a respirarsi ogni giorno il traffico dalle 10 alle 30 mila macchine previste. Ora si tratta di un territorio già estremamente inquinato, quello della Saint-Saint-Denis a cui tu vuoi aggiungere ancora di più inquinamento atmosferico e sappiamo che i bambini sono i primi più sensibili all'inquinamento atmosferico perché quando ai 3 anni stai ancora sviluppando anche i tuoi organi quindi sono anche i più esposti. In realtà il cojo, quindi la macchina olimpica lo sa benissimo e infatti per i suoi atleti nelle zone della Saint-Saint-Denis ha ben pensato che dovrà installare delle strutture per ripulire l'aria, quindi all'interno del villaggio degli atleti ci saranno tutta una serie di macchinari per rendere l'aria più pulita. Però questa cosa non è mai stata posta per i 700 bambini che abitano queste zone, come non è nemmeno stata posta per le 9 mila persone che abitano il quartiere. Quindi vorrei concludere con questo pensiero che è quello che subito mi è venuto in mente vedendo questa situazione appunto così dicotomica, ovvero che un mese e mezzo di vita di un atleta, di un atleta professionale per i giochi olimpici in realtà vale di più di tutta la vita di 700 bambini dei quartieri popolari per loro, come vale ancora di più di tutta la vita di tutte le persone che vivono nella Saint-Saint-Denis, ovvero mezzo milione che quell'inquinamento se lo respirano tutti i giorni. E quindi quando parliamo di giochi olimpici parliamo di un mese e mezzo di macchina olimpica, di quell'opulenza totale, di quell'infinita crescita e visione appunto di un gioco appunto che sono i giochi olimpici dove anche la visione dello sport verso questa sorta di limite infinito dove uno deve dare il massimo e sempre di più, questa cosa qui poi si traduce nei territori con una devastazione totale che ovviamente avrà degli impatti sulle persone che li abitano per tutta la loro vita, fino a che non saranno costretti in realtà a lasciare questi quartieri perché in realtà i genitori dei bambini di questa scuola del complesso di Anatole France stanno già iniziando a partire perché questo progetto sanno che è ecocida e che peggiorerà la vita di tutti i bambini dell'Anatole France. Quindi i giochi olimpici sono prima di tutto anche un problema di ingiustizia sociale oltre che ingiustizia ambientale soprattutto quando si parla della Saint-Saint-Denis. Grazie mille!